Il presidente dell'associazione Terra Monostra, Piero Chiarini, per parlare dell'affitto di un locale del comune in centro che ospita l'associazione Big Match ad un prezzo modico. La sua associazione come giudica questa situazione? A noi ci fa piacere se le altre associazioni culturali hanno delle agevolazioni, però preferiremmo che fosse per tutti quanti perché noi vediamo che i fondi purtroppo sono sempre di meno, non sono più sufficienti per svolgere un'attività continuativa e quindi le associazioni si trovano in difficoltà. Noi abbiamo visto che lì al mercato coperto ci sono tanti locali al secondo piano vuoti il comune potrebbe affittarla ad un prezzo eco come ha fatto per Big Match anche per le altre associazioni. Noi vediamo che ci sono tante associazioni meritevoli in città, prendiamo la Benetto Marcello, ma tante altre. La nostra associazione che tra il prossimo anno fa 25 anni di attività, quindi sarebbe auspicabile che se si fa un'agevolazione sia estesa a tutti quanti. Infatti lei e la sua associazione ha proposto di dare spazio a tutte le altre associazioni appunto proprio all'interno della struttura del mercato coperto. Da dove nasce questa idea? Beh, siccome in città abbiamo più di mezza città vuota, noi abbiamo solo l'ex manicomi, sono 24 mila metri quadri. L'ospedalette per fortuna che adesso lo stanno ristrutturando per l'Anfas, stanno facendo dei lavori, noi abbiamo lì una stanza che paghiamo abbastanza cara. Non è che giustamente, anche se è un'associazione benefica, abbiamo in città più di mezza città vuota. Se si comincia a recuperare la città, io penso che la città potrebbe avere più vita, ci sarebbe più movimento, più movimento sia culturale che sia anche turistico.